Dal 21 al 24 gennaio torna in fiera a Udine, Agriest, il salone dedicato all'agricoltura del nord-est. Quella di quest'anno sarà un'edizione green. Non saranno in mostra macchinari e attrezzature agricole, ma si tratterà più di una mostra a convegno, con focus specifici sulle tematiche ambientali e di gestione sostenibile del territorio. I contenuti della manifestazione sono stati presentati in conferenza stampa a Udine nella sede della regione. Sì, esatto. Dal 2013 abbiamo deciso di sdoppiare questo Agriest in due format, un focus land negli anni pari e un focus tech negli anni dispari. Quest'anno tocca all'edizione land ed è assolutamente più centrale la parte di approfondimento. Abbiamo un ricchissimo programma di eventi e di convegni, dibattiti, per cui la parte espositiva c'è, ma è necessariamente più ridotta rispetto all'edizione tech, per cui Expo Forum vuol dire proprio questo. La parte centrale è il momento di dibattito e di approfondimento, che è stato costruito a più mani grazie alla regione, all'Università di Udine, quindi avremo tantissimi illustri relatori che ci verranno a parlare di quella che è l'agricoltura del futuro. Target è naturalmente gli imprenditori agricoli, gli agricoltori, ma anche le famiglie, perché ci sono delle iniziative proprio rivolte. Sicuramente ci sono iniziative dedicate ai più piccoli, con le fattorie didattiche e altri momenti curati dal corpo forestale della regione, ma anche in generale i temi in discussione in questi quattro giorni sono temi che toccano da vicino tutti, perché quando si parla di uso razionale del territorio, di tutela, valorizzazione, insomma poi l'agricoltura interessa a tutti direttamente, se pensiamo solo a quello che mangiamo, per cui sicuramente sarà un momento interessante di approfondimento per tutti, non solo per gli operatori del settore, che ovviamente faranno la parte dei protagonisti. Questa edizione numero 51 di Agriest è frutto di una sinergia tra Ente Fiera, Università e Dersa. Gli argomenti che sono in previsione, adesso li cito a memoria, spero di citarli tutti, quindi parliamo di biodiversità e quindi di nuovi o dimenticati prodotti che facevano parte comunque delle abitudini della regione e che possono avere un significato anche economico, parliamo di strumenti decisionali per quanto riguarda le trattazioni in campo fitosanitario, quindi i trattamenti che vengono fatti per diversi periodi, diversi scopi e quindi un sistema che abbraccerà e di cui l'Eersa fra l'altro è beneficiario diretto della misura per costruire questo sistema e quindi avrà a disposizione un milione e mezzo, parliamo di dati agrometeorologici, parliamo di accesso a banche dati che possono comunque aiutare la singola azienda a regolarsi rispetto a determinate operazioni. Questo costituirà un sistema innovativo che usa modellistica europea molto avanzata e che quindi ci consentirà di essere sempre più preciso nelle previsioni delle prospettive delle possibili malattie e delle coltivazioni. Agriest arriva proprio nella fase di avvio del PSR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia. Questa è stata vista dall'assessore regionale alle risorse agricole come una felice coincidenza. E' indubbiamente una felice coincidenza, sarà dedicato al PSR e sarà dedicato sostanzialmente al confronto sui temi dell'agricoltura e dell'agroalimentare che il PSR stimola e quindi è una felice coincidenza che ci permetterà di fare dei convegni, dei confronti che aiuteranno gli operatori del settore ma sono convinto aiuteranno probabilmente e spero il cittadino anche ad apprendere a conoscere di più il mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Notizia proprio fresca fresca di questi giorni, insomma di oggi, Ministero delle politiche agricole cambierà nome, diventerà Ministero dell'agroalimentare. Cosa pensi? Beh, credo che sia da un lato una scelta giusta e lungimirante anche dopo l'Expo, la straordinaria cavalcata che abbiamo fatto con la presentazione dell'Expo ma anche per far capire al cittadino che l'agricoltura non è quell'elemento residuale che magari conta solo una piccola percentuale del PIL è fortemente collegata all'industria, al turismo, alla possibilità di promuovere il nostro paese all'estero quindi è bene ricordare a tutti che l'agricoltura è anche alimentazione, è anche industria e quindi è una scelta che ritengo giusta. È stato siglato un accordo tra il Ministero delle politiche agricole e Banca Intesa San Paolo per un plafond di 6 miliardi di euro da erogare come credito alle imprese agricole quindi insomma mi sembra di capire che ci sia una certa attenzione in più forse al mondo dell'agricoltura. Sì, io credo che ci sia un'attenzione in più, Agri, Eslende, manifestazioni come queste aiuteranno ulteriormente finalmente mi sembra che diffusamente nella cultura delle persone si è capito che l'agricoltura non può essere residuale ma che è connaturata al nostro vivere quotidiano e quindi c'è un'attenzione forte c'è ovviamente un'attenzione forte al mondo del credito per le imprese agricole in alcuni settori che versano in difficoltà ma in generale come regione abbiamo anche degli strumenti tipo la legge 80 e il fondo di rotazione che danno le risposte credo molto puntuali al nostro sistema imprenditoriale agricolo. La fiera apre i battenti giovedì 21 gennaio e proseguirà fino a domenica 24 oltre al ricco programma di incontri per gli agricoltori ci saranno novità e momenti per le famiglie e i bambini come l'iniziativa Scopri Natura curata dal Corpo Forestale Regionale.